Pare manchi poco all'ufficializzazione del marchio Prada che avrà vita anche sulle strade di Bari. Grazie ad un accordo stipulato con la casa editrice La Terza, il marchio del lusso occuperà alcune decine di metri di via Sparano, tra le strade di via Principia Medeo e via Dante Alighieri, portando alla chiusura del negozio Sisley gestito dai proprietari di La Terza. Ma non solo, sembra che Prada si avvarrà anche di parte della stessa libreria che si affaccia su via Sparano, costringendo la storica casa editrice ad una riduzione della sua superficie. Tutto questo avrà un prezzo, ma attualmente le cifre di quest'operazione comprensiva di caparre e affitto mensile sono ancora rese oscure al pubblico. L'apertura è prevista tra i mesi di giugno e settembre.